Parliamo di un universo molto molto interessante e molto variegato e complesso, quello del credito al consumo. Ovviamente dobbiamo essere ancora più sintetici del solito perché si tratta di una materia vastissima e molto tecnica, ma cerchiamo di fornire delle informazioni assolutamente fondamentali. Cosa si intende per credito al consumo? Il credito al consumo è quella tecnica di finanziamento offerta da banche o finanziarie a consumatori, quindi a persone fisiche, per l'acquisto di beni e servizi che non sia di importo inferiore ai 200 euro e non superiore ai 75.000 e non può essere finalizzato all'acquisto di immobili. È bene focalizzarsi su quelli che sono gli obblighi specifici a carico del soggetto finanziatore, banca o finanziaria, perché esiste per legge, il testo unico bancario del 93 è la legge di riferimento, esiste per legge un obbligo di informazione molto molto dettagliata a carico della banca o della finanziaria, che deve fornire notizie assolutamente precise e naturalmente per iscritto circa il tasso di interesse totale, complessivo, applicato al finanziamento, tasso di interesse che deve essere sviscerato e spiegato nella sua composizione, la durata del finanziamento effettiva, l'importo tanto della rata mensile che si dovrà affrontare, quanto del credito totale che poi bisognerà, che si riceverà, bisognerà restituire alla banca, quindi comprensivo anche di tutti gli interessi. l'eventuale penale per la restituzione anticipata e poi soprattutto siccome sono frequentissime le pubblicità di prodotti finanziari, di finanziamenti, anche gli eventuali costi accessori che possono non essere immediatamente visibili ma che sono previsti per accedere a quel tipo di finanziamento, proprio quel tipo di finanziamento che noi vogliamo acquistare, acquisire. Un altro obbligo assolutamente importante che grava sulla banca sul quale occorre vigilare è un vero, reale ed effettivo esame, una vera e reale effettiva valutazione del merito creditizio del cliente consumatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che la banca deve effettivamente porre in essere una istruttoria accurata per non concedere un finanziamento ad un soggetto che non è oggettivamente in grado di restituirlo. Quindi la banca ha un onere di valutare seriamente se la concessione di questo finanziamento metterà in grandissima difficoltà, molto probabilmente, il consumatore. È una considerazione che può sembrare banale, tutti dicono sì, va bene, la banca fa l'istruttoria prima di concedere un finanziamento. Non è affatto banale questo aspetto perché nel caso in cui si accerti che non è stata posta in essere un istruttoria adeguato oppure la risultanza dell'istruttoria è stata sottovalutata, quindi non è stata presa in considerazione in maniera accurata ed è stato concesso avventatamente un finanziamento, la banca, la finanziaria può essere portata in giudizio e si può chiedere la nullità, l'annullamento del finanziamento e addirittura la condanna all'esercimento del danno nei confronti della banca. Quindi molta attenzione a questo passaggio. La forma per il contratto di finanziamento deve essere naturalmente e obbligatoriamente scritta, il consumatore deve averne sempre una copia molto dettagliata, anche prima di sottoscrivere il finanziamento naturalmente. E un'ultima attenzione va posta nei confronti dei cosiddetti finanziamenti che comportano un collegamento contrattuale, ossia sono frequenti finanziamenti che vengono accesi proprio in corrispondenza con l'acquisto di un bene. Io acquisto un bene e nello stesso tempo mi viene offerto un finanziamento con un istituto di credito. Questo tipo di scenari comportano dei rischi nel caso in cui il fornitore del mio servizio fosse inadempiente, quindi io rimanessi senza servizio o senza bene, potrei trovarmi con un finanziamento da pagare. Ebbene la legge invece prevede, ricordiamocelo che in questi casi, in caso in cui il fornitore sia inadempiente e il consumatore lo metta in mora a cielo di fidi a porre in essere la sua obbligazione ma senza esito, si può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e la banca, la finanziaria è addirittura tenuta a restituire le rate già pagate dal consumatore. Quindi il consumatore non si troverà con la beffa oltre al danno, ossia non si vedrà privato del servizio perché il venditore non è stato adempiente e potrà dall'altra parte chiedere la risoluzione del finanziamento e quindi non avere il grande peso del finanziamento da pagare comunque.